Oh 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 Small Link vicinissimo al ritorno. Small Link vicinissimo al ritorno e quanto ci godo ragazzi si! Si 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 si... 시! Small Link quasi alla Roma Ragazzi quasi vicino alla Roma Io spero che non è in prestito però quasi di sicuro La cosa più sicura è che è in prestito ma spero che sia in prestito che è tipo due anni non un anno come l'anno scorso che dopo Smalling arrivo a restare alla Roma quindi considerate che sono felice se è in prestito se lo vendono proprio se il Manchester United lo vende proprio considerate quanto sono felice ovviamente la Roma se lo vende ad un'altra scuola io mi ammazzo però Smalling ha annunciato da tanto tempo che se tornava in Italia lo veniva a fare solo per la Roma grazie ci serve ancora ci serve ancora ragazzi quando se non è arrivata lui non so come come diventava il campionato se un altro difensore se non abbiamo lui non so come facevamo il campionato ragazzi ci sono troppo tempo vicinissimo vicinissimo a ritorno poi vi terrò sempre aggiornati vi farò un'altra notizia di Smalling sia ufficiale che ritornerà alla Roma però per ora è vicinissimo quindi sono molto contento ovviamente neanche ho il fiato di parlare ragazzi odio mamma mia anche su 9 Golan ragazzi questa maglietta l'ho comprata appena quando stavo andando via l'ho comprata prima che stavo andando via l'ho comprata pensate un po' che sfortuna mamma mia mamma mia mamma mia sì grazie Smalling Smalling per me ormai è un re di Roma per me ormai è un re di Roma odio grazie anche Stratman praticamente era una specie di simbolo per la Roma quindi era una specie di simbolo per la Roma Stratman e ora per me è un altro simbolo è cambiato simbolo è Smalling per me ora perché è troppo forte ragazzi è troppo forte ragazzi fatemi un attimo fermare oddio 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 ho appena letto la notizia ora ho dovuto fare subito il video subito 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 ragazzi iscrivetevi al canale e farò un altro episodio se è ufficiale che ritorni a Roma che spacco tutto spacco tutto per modo di dire ovviamente è uno scherzo mica spacco tipo il vetro niente spacco spacco tutto tutto vuol dire per modo di dire perché è qualcosa nel senso che sono troppo felice faccio così così ragazzi ragazzi niente sono troppo contento sono troppo contento una volta l'inter avevo fatto un video che praticamente potessi che andava all'inter ma meno male che smalling ha ufficializzato questa cosa che se torna in Italia torna solo alla Roma mamma grazie smalling grazie smalling ragazzi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video se sono troppo felice 10 like per un prossimo episodio anche 15 quanti volete e faccio di tutto e di più così vabbè regà non mi prendete come in mezzo matto ciao ciao